Torniamo di nuovo a parlare del permesso di soggiorno protezione speciale. Andiamo a chiarire una domanda che ci ha fatto Kumar relativamente al fatto se uno ha ottenuto il permesso di soggiorno protezione speciale nel 2024, se può o meno convertirlo in permesso di soggiorno lavoro subordinato. Andiamo a vedere la normativa specifica che recita il permesso di soggiorno per protezione speciale, consente di svolgere un'attività lavorativa sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte alla legge numero 50 2023, che sarebbe appunto il decreto cutro di cui abbiamo parlato largamente nei video precedenti, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'Avvocatura Generale ha tuttavia chiarito che in alcuni casi tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui un permesso di soggiorno per protezione speciale è stato rilasciato prima del 5 maggio 2023, è in corso di validità e ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione. Quindi, come potete ben vedere, nel caso in cui uno avesse appena ottenuto il permesso di soggiorno protezione speciale, non è più possibile la conversione, ma solo per tutti quelli che l'hanno ottenuta prima del 5 maggio 2023. Grazie per la visione!